ciao e benvenuti a tutti voi miei cari amici ascoltatori di italiano in podcast oggi episodio un po particolare perché è un episodio che copre un giorno e mezzo quindi non è un episodio solo di venerdì dell'ultimo giorno della settimana ma è un episodio che copre anche una buona parte del sabato una puntata un po anomala ieri sera non ho registrato il nuovo episodio ma lo registro oggi e oggi è sabato ma è pomeriggio sono le 5 del pomeriggio un podcast un po diverso poi vi spiego perché non ho registrato l'episodio ieri sera per il momento vi dico solo che questa è la puntata numero 576 di venerdì sabato 28 29 ottobre in una puntata due giorni in uno è una puntata che faccio adesso perché non voglio lasciare tutti voi senza l'ultimo episodio della settimana vi ho promesso più regolarità quindi anche se con un po di ritardo voglio completare questo questo obiettivo insomma raggiungere questo obiettivo completare questo compito di pubblicare cinque episodi questa settimana questo è una cosa buona per me è una cosa buona per voi ma certamente mi dispiace di non averlo fatto ieri sera anche se oggi vi posso raccontare qualcosa in più prima di cominciare con il racconto vi ricordo sempre che cos'è italiano in podcast quindi un giorno e mezzo mezza giornata quattro giorni l'obiettivo è sempre lo stesso non conta il numero di giorni ma l'esercizio di ascolto che voi fate con italiano in podcast un esercizio di ascolto e di comprensione questo è il mio compito raccontarvi delle cose il vostro ascoltare e cercare di migliorare il vostro italiano prima di iniziare con i miei racconti il consiglio di sempre il consiglio che vi do ogni giorno e cioè quello di trovare un momento tranquillo è un luogo tranquillo dove rilassarvi e concentrarvi solo sulla mia voce per ascoltare e per prendervi tutto l'italiano che potete se non riuscite a capire tutto al primo colpo cioè al primo ascolto non mi fermate mentre mi ascoltate andate avanti se le mie parole hanno ancora un senso arrivate alla fine e solo dopo completate l'esercizio con un ascolto più attento delle parti che mancano sono sicuro che tutto questo vi aiuterà meglio fermarsi ogni volta appena si ha una difficoltà può essere stressante frustrante e soprattutto poco produttivo e poco utile al nostro scopo questo è il consiglio di sempre quindi fate un riascolto del podcast ma cercate di godervelo se si può se quello che dico è interessante cercate di arrivare fino in fondo senza fermarvi troppo o senza fermarvi affatto meglio ancora comunque questo è sempre sempre la mia solita introduzione questa è sempre la mia solita introduzione per scaldarvi bene le orecchie prima di parlarvi di qualche cosa oggi forse sentirete qualche rumore in più perché siamo nel pomeriggio e chiaramente ci sono i rumori della vita intorno a me ma spero che non sia un problema troppo grande comincio subito dal tempo signori qui sembra quasi estate in certe ore del giorno davvero le temperature sono assolutamente molto vicine a quelle estive forse l'unica cosa che cambia è che chiaramente ci sono queste temperature nella parte centrale della giornata non so tipo dalle 11 del mattino fino alle 4 le 5 al massimo la sera in questa fascia oraria c'è solo un po di vento di solito che disturba tutto il resto praticamente perfetto un caldo un sole caldo che scalda la faccia e il corpo e che in questi giorni come avete visto tutti si è messo anche in posa e ha sorriso per fare una foto per farsi fare una foto dalla nasa questa foto ha fatto il giro del mondo quindi il sole se la ride non so se noi rideremo quando arriverà l'autunno questo tempo queste condizioni climatiche non sono normali è il 29 ottobre e ancora c'è questo caldo sì è bello chiaramente è un come un dono però la sensazione è davvero di qualcosa che non va qualcosa che non funziona esattamente come dovrebbe ma il sole se la ride e speriamo che ci sorrida e ci faccia sorridere per molto tempo ancora penseremo poi al triste autunno quando arriverà comunque tempo perfetto venerdì cioè ieri ho fatto alcune lezioni al mattino sono sono stato impegnato con alcune lezioni al mattino qualche breve commissione fuori e poi ho fatto un lavoro di registrazione di questi audio che mi servono fino più o meno all'ora di pranzo a quest'ora poi ho dovuto organizzare con il telefono e alcune chiamate un nuovo prelievo del sangue per mia madre perché la prossima settimana devo andare a rinnovare questo piano terapeutico cioè questa questa cura che lei fa con l'ossigeno ho bisogno di fare questo esame che si si fa con un prelievo di sangue arterioso non quello delle vene quello delle arterie per controllare la situazione dei gas presenti nel sangue che possono dare un'indicazione sul funzionamento del sistema respiratorio quindi dei polmoni e di tutto quello che riguarda la corretta respirazione questo esame permette ai medici di cambiare o mantenere uguale la terapia che lei fa con l'ossigeno al momento lei lo prende solo la notte quindi è attaccata a questo bombola dell'ossigeno solo di notte per migliorare appunto la sua capacità respiratoria e di solito è questa la terapia che segue sempre ma prima di andare dai medici appunto devo organizzare questo prelievo viene un infermiere un po più esperto di solito perché il prelievo del sangue arterioso è più un po più difficile le arterie sono più in profondità e poi lui stesso userà questo campione in un dispositivo che fa le analisi del campione analizzerà il campione di sangue e mi darà subito i risultati questa è una cosa nuova è una cosa molto buona per me perché mi fa risparmiare molto tempo non devo aspettare i risultati dell'ospedale ma l'infermiere stesso con questa macchina può darmi una stampa di questi valori che poi servono ai medici per fissare una terapia ho passato quindi un po di tempo in alcune chiamate per organizzare questo appuntamento per lunedì e e poi ho deciso di uscire un po perché avevo voglia di stare fuori c'era un bel sole ho deciso di approfittare di scendere in riva al mare quindi andare un po vicino all'acqua sdraiato su uno scoglio a prendere un po di sole a rilassarmi soprattutto a godermi questo sole sulla faccia questo sole ridente sulla faccia per circa un'oretta quindi sono rimasto fuori sono rientrato e ho pranzato con un po di ritardo e poi dopo un breve riposino diciamo 30 minuti di rilassamento un caffè e poi di nuovo a lavorare con queste registrazioni con questi audio che faccio per il mio progetto un po di programmazione anche e chiaramente un po di burocrazia non burocrazia per il governo ma ho letto qualche mail ho risposto a qualcuno devo rispondere ancora a veronic scusami mi hai scritto alcuni mail e ti rispondo presto e poi dopo di questo ho deciso di infilare le mie scarpe da corsa di vestire anzi calzare le mie scarpe da corsa anche se direi sempre mettere le scarpe da corsa e sono uscito per per una corsa per una corsa però breve 5 chilometri non 10 e ho praticamente eguagliato il mio record sui cinque chilometri ho corso in 24 minuti e 22 secondi con una media di 4 minuti e 52 secondi per ogni chilometro una bella corsa mi ha dato molta soddisfazione nonostante ancora non sia al massimo della forma come mi sentivo una settimana fa arrivano buoni risultati con i tempi quindi questo vuol dire che questo modo di correre ormai per me è acquisito cioè ormai questa è un'abitudine per me anche se non mi sento ancora in modo perfetto e questa è una buona notizia certo ieri però mi sentivo molto bene molto vicino a una forma quasi perfetta ma ancora con qualche piccolo fastidio e con la consapevolezza di poter fare molto meglio dopo la corsa però sono rientrato a casa molto lentamente mi sono gustato una passeggiata non ero troppo sudato troppo accalorato o troppo come dire infreddolito perché ormai era buio e insomma ero assolutamente tranquillo dopo questa bella corsa quindi prima di salire a casa fare una doccia ho portato fuori l'immondizia ho fatto alcune commissioni come dare da mangiare il gatto ai gatti e poi sono rientrato a casa per una bella doccia calda con molta calma è una cena molto semplice non cibi freddi ma comunque cose molto veloci da preparare beh dopo la cena dovevo aspettare un'ultima lezione che c'era dalle 11 a mezzanotte questo nel passato era più normale per me adesso non capita molto spesso le persone con cui parlo sono quasi sempre le stesse negli ultimi tempi e hanno abitudini diverse in quest'ora è poco comune qualche volta succede di fare una lezione un po più tardi come in questo caso e dopo la cena semplicemente mi sono rilassato un po ho letto qualcosa ho guardato qualche video ho mandato qualche messaggio qua e là prima di iniziare appunto quest'ultima lezione dalle 11 a mezzanotte potevo forse provare a fare il podcast da vampiro ultimamente però preferisco farli più riposato avevo un po di sonno e ho detto vabbè perché no provo a farlo domani mattina ma questa mattina sabato mattina mi sono svegliato un po più tardi del solito e mi sono rigirato un po troppo nel letto e quindi ho perso l'occasione di registrare il podcast la mattina presto perché poi dovevo fare alcune cose che faccio ogni mattina come vi ho spiegato e poi avevo una lezione la lezione della del sabato con jonathan quindi ho pensato vabbè oggi farò una cosa un po diversa farò un podcast più tardi durante la giornata e ve lo dico quindi niente bugie quindi un podcast di un giorno e mezzo dopo la lezione con jonathan sono uscito per fare un'altra cosa importante probabilmente domani domenica farò un giro in bici un po più lungo se riesco ancora non lo so ma da un po di giorni volevo portare la mia mountain bike quella non quella elettrica non la e bike quella normale a motore umano a carburante umano volevo portarla dal mio meccanico di fiducia negozio dove di solito compro la bicicletta e le cose per la bicicletta è anche un negozio in cui c'è il meccanico ovviamente che è il proprietario del negozio gli ho portato la bicicletta per fargli dare una sistemata per far regolare bene freni il cambio della bicicletta per far ingrassare la catena la catena serve a trasmettere il movimento alla ruota ingrassarla vuol dire aggiungere questo grasso che adesso è uno spray praticamente per tenerla lubrificata ha fatto tutte queste cosette in poco tempo una mezz'ora forse mentre chiacchieravamo un po non lo vedevo da un po di tempo da più di un anno forse circa un anno e quindi ci siamo un po raccontati come è andato quest'anno non c'era più il suo aiutante mi ha spiegato che dopo il boom della vendita di biciclette durante la pandemia il lavoro adesso non è più così intenso quindi adesso lavora un po da solo perché non è più necessario avere un altro aiuto nell'officina e quindi mi ha anche raccontato quello che è accaduto un po nel nella sua vita niente di speciale però ci siamo scambiati abbiamo scambiato quattro chiacchiere è stato un piacere e presto li porterò anche la e bike per una controllata per dare un occhio per controllare che tutto sia a posto e tutto sia in ordine certamente la e bike è più nuova quindi ancora quasi perfetta non l'ho usata troppo è più costosa anche quindi ha bisogno però di controlli ma è stato un piacere scoprire che anche la mia e mountain bike normale ha ancora un discreto valore di mercato quindi l'acquisto che ho fatto era buono di una famosa marca che non dico ovviamente e questa bicicletta dopo sette anni se credo sette anni ha ancora un buon valore non è da buttare ovviamente anzi è ancora una bicicletta molto valida forse farò un pensiero all'idea di cambiare la bicicletta anche se non è necessario ma solo per prendere un modello un po più nuovo ma questo forse in primavera quindi non per il momento non questo inverno in primavera forse penserò a una piccola permuta una permuta è quando si dà indietro una cosa come una bicicletta una moto una macchina e si ottiene quindi tengono si ottiene una valutazione di questa bicicletta e si può usare la vecchia bicicletta per avere un vantaggio nell'acquisto della nuova quindi il negozio prende la vecchia bicicletta la rivende ad altre persone e quindi fa una valutazione del valore della bicicletta non so se lo farò quest'anno c'è l'anno prossimo ma forse sì è possibile che in primavera io pensi a sostituire la mia vecchia e cara mountain bike non lo so vedremo dopo questo questa visita ho fatto un giro molto tranquillo una passeggiata in bicicletta in alcuni luoghi che conosco bene in una piccola città vicina alla mia ho cercato qualche amico ma non li ho trovati non c'erano nei posti in cui di solito sono quindi ho deciso di rientrare a casa di fare alcune piccole cose che dovevo finire in casa e poi ho tolto i vestiti da ciclista in realtà non avevo vestiti particolari ma ho messo il costume e ho deciso di provarci c'era un bel caldo un bel sole c'erano molte persone nelle spiagge vicine alla mia città e della mia città ne ho viste tante in bicicletta mentre passeggiavo e ho detto ma perché no per quale motivo non provarci oggi forse potrebbe essere davvero l'ultima occasione e quindi con il mio costume sono andato al mare prima ho assaggiato un po l'acqua nel senso che ho testato l'acqua con le mie gambe sono entrato con quasi tutte le mie gambe nell'acqua per vedere la temperatura ovviamente era fresca ma non era per niente ghiacciata e fuori anche c'era questo bel sole caldo solo un po di vento come ho detto a disturbare ma davvero non era impossibile fare questo ennesimo ultimo tuffo ennesimo è un po un termine matematico relativo al numero n ma praticamente significa l'ultimo di una lunga serie di ultimi tuffi questi ultimi tuffi non finiscono mai quest'anno sembra davvero un infinito ultimo tuffo e chissà che questo se questo sia davvero l'ultimo non lo so ma comunque è stato molto piacevole galleggiare di nuovo nell'acqua non è stato per niente scioccante tuffarmi nell'acqua fresca dopo pochi secondi dentro l'acqua vi assicuro che sembrava assolutamente normale non c'era nessuna sensazione di freddo per niente e a parte il vento fuori che comunque non non faceva battere i denti dal freddo tutto il resto sembrava molto simile a una classica giornata estiva sono restato a sguazzare un po nell'acqua per qualche minuto ho fatto qualche piccolo video per i miei social anche e non solo anche per me e quindi ho portato a casa questo tuffo il 29 ottobre credo che questo sia un record non ricordo un tuffo più tardi del 25 ottobre o 26 ottobre c'è un vago ricordo di un 30 ottobre ma non sono sicuro di questo se qualcosa che è accaduto davvero o no ma certamente un tuffo il 29 ottobre non capita tutti gli anni e sicuramente mi fa piacere anche se come ho detto beh questo non è molto normale un po preoccupante forse vedremo se poi l'autunno non sarà terribile perché poi la paura è che la pioggia arrivi tutta insieme in un modo un po più forte intenso e la paura è che ci siano appunto danni o problemi ma speriamo che non sia così mi sono steso al sole ad asciugarmi sono restato al mare più o meno un'ora e mezza ho visto anche le mie temutissime nemiche meduse per fortuna lontane da dove io ho fatto il bagno ma c'erano c'erano quindi le mie arci nemiche meduse in questo periodo amano andare in giro vicino la mia scogliera ma per fortuna non le ho incontrate mentre ero in acqua sono tornato a casa un pranzo veloce questa volta cibi freddi dopo il tuffo un po di riposo e adesso prima di iniziare la seconda parte del pomeriggio il podcast che state ascoltando e questo è il riassunto di questa giornata e mezza di venerdì e sabato fino al sabato pomeriggio sono contento di aver aspettato per raccontarvi anche di questo tuffo che è stato un po inaspettato non me lo aspettavo davvero un altro dopo il 20 ottobre ma sono contento di raccontarvelo in questo episodio bene tutto qui per quanto riguarda me andiamo un po più veloci perché altrimenti facciamo notte qui cioè andiamo avanti fino a questa notte vi devo un aggiornamento su una notizia che vi ho dato ieri a parte che continua un allarme siccità in questi giorni davvero terribile in molte zone dell'italia e chiaramente questo è dovuto a questo bel tempo ovvio però non piove quindi c'è siccità mi dovevo un aggiornamento sulla situazione nella stazione di carabinieri in provincia di como dove uno dei carabinieri ha preso in ostaggio diverse persone e le ha tenute in ostaggio fino a praticamente la mattina di venerdì di ieri alla fine le teste di cuoio cioè i gruppi speciali sono entrati hanno fatto irruzione e hanno trovato praticamente il comandante di questa stazione è morto è stato ucciso gli altri prigionieri gli altri ostaggi erano in buone condizioni credo nessun ferito e il sequestratore questo carabiniere che insomma ha perso il controllo è stato catturato non è stato ucciso però lui purtroppo ha ucciso il comandante nella sua stazione sembra proprio perché il comandante era contrario al suo ritorno in servizio a causa dei problemi psicologici infatti questo carabiniere era stato ovviamente sospeso dal servizio e forse lui ha ucciso il comandante proprio per questo motivo non lo sappiamo o almeno non lo sappiamo ancora ma poi se ho qualche novità ve lo farò sapere anche se questo è un fatto di cronaca e non non lo faccio spesso insomma non vi riferisco spesso un fatto di cronaca bene per le notizie non c'è molto altro però ce n'è ancora un importante a parte la foto del sole che tutti conoscete e a parte il caldo e le temperature più alte del normale c'è un evento come dire una ricorrenza storica importante perché riguarda la storia dell'italia una fase importante della storia dell'italia ma importante forse anzi certamente in senso negativo non c'è bisogno del forze il 28 ottobre 2022 cioè ieri venerdì è stato il centenario cioè i cento anni dall'evento che ha cambiato la storia dell'italia prima della seconda guerra mondiale il 22 il 28 scusate il 28 ottobre 1922 infatti mussolini e i suoi i suoi fedeli hanno organizzato questo atto più simbolico che pericoloso questa famosa marcia su roma una specie di invasione della città del partito fascista organizzato dal partito fascista c'è stato quindi l'arrivo di questo enorme numero questo grande numero di fascisti insieme a mussolini arrivo nella città per fare pressione per mostrare un po la forza di questo partito e chiedere la chiedere che mussolini diventasse il primo ministro quello che è seguito poi è nella storia mussolini è effettivamente diventato primo ministro e ha poi tenuto il potere in italia per 20 anni il famoso ventennio fascista questa ricorrenza storica è ovviamente stata oggetto di molte polemiche politiche sapete tutti forse delle polemiche sul partito di giorgia meloni fratelli d'italia accusato spesso di nostalgie per queste per quest'epoca e per il fascismo più volte la meloni ha smentito questa natura del suo partito un partito di destra ma una destra moderna giorgia meloni ha sempre negato ogni possibile vicinanza del suo partito con il fascismo e il nazifascismo ma comunque non sono mancate ovviamente le manifestazioni come dire di dissenso di come dire se non è mancata la polemica diciamo così la polemica politica ci sono state manifestazioni di diverso tipo qualcuno è andato ad onorare la memoria di matteotti il parlamentare italiano fatto uccidere da mussolini parlamentare dell'opposizione a mussolini fatto uccidere dal partito fascista qualcuno ovviamente ha sottolineato l'importanza di ribadire l'antifascismo dell'italia la meloni è andata all'altare della patria credo come gesto simbolico e chiaramente ha partecipato a manifestazioni in cui ha continuato sempre a sottolineare il fatto che fratelli d'italia in nessun modo può essere considerato simpatizzante del nazismo e del fascismo comunque questo è l'evento importante di ieri insomma i giornali erano pieni di questo il centenario della marcia della famosa marcia su roma la cosa che mi ha lasciato un po sorpreso qualche giorno fa l'arrivo della mia casella mail di un'offerta di un'importante azienda che produce monete francobolli commemorativi cioè oggetti insomma come questi medaglie piccole monete e anche stampe di famosi eventi storici o personaggi della storia questa famosa azienda proponeva infatti delle monete commemorative per il centenario della marcia su roma è vero che è un fatto storico che bisogna ricordare e analizzare non bisogna nasconderlo bisogna dimenticarlo anzi bisogna mantenere vivo il ricordo per evitare che accada di nuovo ma ho trovato curioso questa voglia di fare delle monete celebrative di qualcosa che forse bisogna bisogna ricordare bisogna spiegare bisogna capire ma non celebrare direi e permettetemi di dire che credo che questa sia più che un'opinione personale sia l'opinione di tutte le persone democratiche del mondo chiaramente la storia si analizza la storia si studia la storia si ricorda ma certe cose forse non si devono celebrare si devono semplicemente appunto comprendere meglio beh detto questo non vi dico nient'altro anche perché il podcast è un po lungo e non voglio fare un podcast troppo lungo per il fine settimana dovete riposarvi dovete rilassarvi quindi ascoltatemi ma non troppo mi scuso per questo ritardo ma forse è venuto un podcast un po più interessante con cose in più da dire non lo so ditemelo voi nei commenti per il momento manca solo un'ultima cosa prima di chiudere il nostro appuntamento di oggi manca il nostro aforisma la nostra frase celebre di oggi e oggi voglio usare l'aforisma di un grande italiano forse il più famoso per voi che studiate la lingua si tratta di dante alighieri ve lo svelo ve lo dico subito è un aforisma che in qualche modo ha a che fare proprio con questo evento con questo centenario della marcia sul roma non so ma credo che sia adatto a questa situazione e quindi la frase celebre di oggi di questo italiano incredibilmente celebre della storia è questa perché quando lo strumento dell'intelligenza si somma alla forza bruta e alla malvagia volontà il genere umano è impotente a difendere se stesso queste le parole del grande dante alighieri non sono sicuro se io le abbia già usate ma per qualche ragione sento che queste parole siano fortemente adatte proprio a descrivere certi orrori della storia che le nostre nazioni hanno vissuto il mondo hanno vissuto e che speriamo non debba mai più rivivere bene con questa un po di filosofia alla fine perdonatemi con questo è davvero tutto di nuovo scusa di nuovo mi scuso per il ritardo del podcast spero sia interessante spero sia utile vi do l'appuntamento a lunedì 31 ottobre per il prossimo episodio fra poco io uscirò probabilmente per una corsa prima devo fare alcuni acquisti il caffè soprattutto poi farò probabilmente una corsa ma non troppo lunga ma per il momento è davvero tutto qui quindi non mi resta che dire la mia solita frase vi saluto e ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.